Sindaco D'Alberto, una buona notizia per Teramo, la regione ha sbloccato i fondi per l'assunzione di 15 dipendenti all'ufficio speciale per la ricostruzione, una buona notizia che si spera possa servire ad accelerare le pratiche? Una buona notizia, un buon segnale, ringrazio per questa operazione da parte della regione che consente di dare risorse umane, personale qualificato all'USR, uno dei problemi centrali della ricostruzione ferma è proprio la lentezza dell'USR, la carenza di personale, quindi questa è una prima risposta che ovviamente può aiutare ad affrontare un problema legato alla gestione dell'ufficio, ma dentro il problema più ampio che è legato alla necessità che vengano modificate le norme, le norme legislative che attualmente sono in discussione a Roma con la legge di conversione del decreto sblocca cantieri su cui ad oggi non abbiamo ancora risposte positive che vanno nella direzione che i sindaci, la gente, i territori chiedono dopo due anni e mezzo di emergenza che continua ad essere piena. Nella regione abbiamo avuto questa risposta, ma direi che con la regione e anche con il presidente Marsilio c'è un'azione congiunta, condivisa, proprio per segnalare, sollecitare, rappresentare a livello parlamentare, a livello governativo la gravità della situazione che stanno vivendo i nostri territori. Questa segnalazione che viene non solo ovviamente dall'Abruzzo, ma da tutte le regioni del cratere sismico del centro Italia, che pagano una sottovalutazione appunto a livello governativo, ad oggi purtroppo non ha avuto ancora la nostra risposta. Quindi la mobilitazione permanente che abbiamo avviato lunedì ovviamente prosegue e ovviamente seguendo quelli che sono i lavori parlamentari e l'azione del governo continueremo a far sentire la nostra voce alzando assolutamente il livello del dibattito e della discussione perché non possiamo più aspettare.